Il semitismo, ecco la professoressa Santerini ci ha appena raggiunti, buongiorno professoressa, ben arrivata, il presidente le ha fatto degli auguri molto importanti per il nuovo incarico, ce lo spiega, cosa consiste? Ma io dovrò coordinare la lotta contro l'antisemitismo e quindi vuol dire coordinare tutte le iniziative che già ci sono in Italia, che sono tante, delle comunità ebraiche, delle istituzioni, delle scuole, ma soprattutto dobbiamo effettivamente lottare contro questo virus di cui ha parlato il presidente, è un virus che riemerge nei momenti di crisi, è un virus di intolleranza e che abbiamo visto può dare degli esiti come quelli che oggi ricordiamoci alla show. Lavorerete sulle scuole, lo si fa ogni anno anche qui al Quirinale, ma su che cos'altro? Allora io vorrei lavorare, noi lavoreremo molto su web, su internet perché è una delle fedi dove l'odio dilaga più facilmente ed è molto importante appunto lì contrastare dal punto di vista razionale ma anche emotivo l'intolleranza ai pregiudizi. Vorremmo lavorare anche nel mondo dello sport dove c'è questo antisemitismo banalizzato, normalizzato che invece è molto pericoloso e naturalmente a livello di tanto lavoro culturale che dobbiamo fare perché l'Italia è un paese che deve e può reagire. Grazie professoressa Santerina, ora anche noi le facciamo gli auguri in bocca al lupo per il nuovo incarico, la nostra diretta termina qui ma torneremo a parlare di questa giornata della memoria alle 13.30 nell'edizione del Tg1. Grazie a tutti, arrivederci a più tardi. Grazie a tutti.